signori ciao lui è un grande campione anche lo sapevo fischia e mettile via che magari non so mai non ci siamo oggi non ci siamo oggi siamo non ci siamo Grazie a tutti. 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 Il salitone del mondiale. Torna indietro. Grazie a tutti. Stop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. Andiamo. Ci siamo tutti. Oh, ma... e... una pesante. e... 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 ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo, andiamo. Ma cos'è un anello? Andiamo a provare anche a me. Ah, ma il salitone è 60 metri? Andiamo. Lo zeno si è fermato. Aspetta, aspetta. C'è lì lo zeno a metà. C'è lo zeno a metà. E' il mungor. E' appena si libera lì. Vabbè, non sono Johnson io. Non sono Johnson io. Ma com'è, è dritto andare fuori. È dritto per brinta. È rovescia. È dritto come il tuo pisello, così. Metti il turbo. E' un fotografico. E' un fotografico. E' un fotografico. E' un fotografico. Grazie a tutti. Fagli vedere la forza del CR. Grazie a tutti. Cosa ha fatto con lì? Cosa ha fatto? 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 Cosa! Cosa? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Grazie. Grande, bravo, finiamo a quel cazzo di sasso di merda qua.